Io dico un sacco di cazzate, ma gli elettori pensano che siano vere. Io pure dico un sacco di cazzate, ma il pubblico lo sa. Io, per far contento il pubblico, devo cambiare le battute, se no non mi chiamano più. Io invece sono 30 anni che racconto sempre la stessa cosa, ma mi votano ancora. Io faccio questo lavoro per fare stare bene le persone. Io pure faccio questo lavoro per fare stare bene le persone della mia famiglia però. Ho fatto uno spettacolo in un paese e li ho fatti ridere per un'ora e mezza. Mi hanno votato nello stesso paese e li ho fatti piangere per 5 anni. Se io non vado a fare uno spettacolo, non mi pagano. Se io non mi presento a Montecitorio, mi pagano uguale. Se io commetto un reato, vado in galera. Ma che te lo devo spiegare? Io, durante gli spettacoli, a te, ti prendo un sacco per il culo. Dilettante. Io, durante i miei comizi, prendo per culo molta più gente di te. Comunque è bravo, eh. La gente ti segue sempre di più e qualche risata me la fai sempre fare. Io, invece, quando guardo te, capisco perché la gente vi segue sempre di meno. E mi viene solo una gran malinconia.